Io ho 50 anni, sei figure di merda e non mi fai parte, mi vedete a chiedere due e tre, voi siete una banda di pezzi di merda, oltre che siete lo scandagolchissimo, qual è chi di voi? E' chiaro o no? E' chiaro? Voi siete delle merde o male? Come una squadra di promozione, parlate solo, voi 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 siete scandalosi, voi siete vergogliosi, voi parlate, voi camminate in mezzo al campo, contro una squadra di promozione, perché parecchi di voi non possono giocare nemmeno in questa squadra, nemmeno nulla con la mia, 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 con la mia... vergognatemi, voi non siete degni, la squadra di promozione, io vi squarto, se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto, a quante più ce ne stanno, a parlare, bu, 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 siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione, siete lo scandalo! Figure di merde come queste nella mia vita non ne ho mai fatte, nessuno che si permetta il premio, il premio che vi ho portato, il premio che vi ho portato, il premio che vi ho portato, il premio che vi ho apparecchi di voi, i pescani si perdono la cattarezza, vi giuro sui figli pescani, ne metto dieci fuori lista, dieci! Decidì a che ora rimane a dimaginare la mezza!